aulina bene direi che partiamo per il nostro giro aulina mi piace innamorare questa idea aulina una bella casa perfetta per una famiglia funzionale siamo in uno stabile d'epoca in ottocento secondo piano sono circa 80 metri un salotto con zona pranzo camera bagno ideale per un giovane spettacolare una zona cucina sorpresa una bella zona cottura due camere e il bagno e il bagno e il bagno e il bagno la gabbina al patio e il bagno che bella la zona pranzo che bella la zona living che fa eela da zona pranzo che bella la zona living aulina o lina o lina fin a 800 aulina o lina o lina o lina o lina secondo piano aolina o lina 80 metri e i bagno e il bagno e il bagno e il bagno che bella la zona pranzo che bella la zona living L'altra parte Paola, la prima casa, la prima casa, la prima casa, non si scorda mai, non si scorda mai, non si scorda mai.